Anche quest'anno si replica l'esperienza dell'apertura invernale a Villa del Balbianello a Tremezzina, storico bene del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Fra cimeli di viaggio, arredi e collezioni d'arte del suo ultimo proprietario, Guido Monzino, saranno protagonisti i presepi. In attesa del Natale, le porte della villa si apriranno eccezionalmente in orario serale, sabato 8 dicembre, dalle 20.30 alle 22.30, per la Notte dei Presepi, un evento che avrà al centro l'inaugurazione di alcune creazioni realizzate dall'Associazione Italiana Amici del Presepe, sezione Tremezzina, nella loggia Segre e nella loggia Durini, e un concerto sotto le stelle. I visitatori potranno ammirare l'arte presepiale napoletana nei dettagli delle opere provenienti da alcune collezioni private e una natività ambientata in villa. Saranno inoltre in mostra alcuni presepi in carta e il percorso si concluderà con l'immagine del presepe in Tremezzina, un dipinto su legno che ritrae la scena della natività ambientata al Balbianello. I presepi rimarranno in mostra per tutto il periodo delle festività. Per rendere ancora più suggestiva l'ambientazione invernale, la villa verrà illuminata. Nel periodo dall'8 dicembre al 6 gennaio, gli interni non saranno più visitabili, si potranno vedere soltanto la biblioteca e il cartografo, la loggia Segre e i presepi. Per avere maggiore informazione su giorni e orari di apertura, consultare il sito villadelbalbianello.it. Grazie a tutti.